Ciao ragazzi, sono Valeria e sono un tutor GiaSchool. Nella lezione di oggi vedremo gli elementi geometrici fondamentali, ovvero i punti, le rette e i piani. Prima di partire con la lezione, ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e di visitare il sito GiaSchool.it dove troverai altri tutor e altre lezioni di matematica e geometria. Partiamo dunque con la lezione cercando di capire che cos'è un punto. In geometria, il punto è l'elemento geometrico più piccolo ed ha una caratteristica particolare, non ha dimensione. Vuol dire che tutto ciò che abbiamo modo di osservare nella realtà ha lunghezza, larghezza ed altezza. Quindi all'inizio risulta non facile immaginare un punto senza dimensioni. Per ovviare a questo problema, ti puoi immaginare un punto come quello che riusciamo ad ottenere quando lo disegniamo con una penna su di un foglio, in dimensioni piccolissime. Tuttavia, ricorda che in geometria il punto non ha dimensioni, dunque può essere infinitamente piccolissimo. In genere, negli esercizi, per poter distinguere i vari punti, li troverai indicati ciascuno con un nome diverso. Vediamolo nel dettaglio. Il nome di un punto è in genere una lettera dell'alfabeto maiuscola, come ad esempio la lettera A, la lettera B, la C e così via. Bene, ora dopo il punto passiamo alla retta. Manchissimo elemento geometrico fondamentale. La retta è formata da un insieme infinito di punti allineati tra loro ed ha una dimensione, ovvero la lunghezza. Per visualizzare una retta, possiamo tracciare, con l'ausilio di un righello, una linea su un foglio e poi immaginiamo che la linea si stenda lungo la direzione tracciata, all'infinito. Questo significa che la retta non ha né un inizio né una fine. Tuttavia, siamo interessati a disegnare anche la retta su un foglio. Quindi, per indicare una retta, in genere, si mettono dei trattini all'inizio e alla fine della linea che abbiamo tracciato, proprio per indicare che non c'è né un inizio né una fine. Come puoi osservare, abbiamo una sola dimensione, che è appunto la lunghezza della retta. Ma poiché la retta non ha né inizio né fine, come abbiamo appena detto. Questo significa che la sua lunghezza è infinita. In genere, le rette vengono indicate con delle lettere minuscole dell'alfabeto. Passiamo ora alla semiretta. Come ci suggerisce anche il nome, le semirette sono simili alle rette, ma hanno un inizio. Per visualizzare una semiretta, possiamo partire da un punto e tracciare una linea retta lungo una direzione. Dunque, il punto da cui partiamo è l'inizio della nostra semiretta, mentre la fine non esiste e per questo mettiamo i trattini per indicarlo. Anche le semirette hanno una sola dimensione, la lunghezza, che anche qui è infinita. Come le rette, anche le semirette vengono indicate con delle lettere dell'alfabeto minuscole. Bene, passiamo al prossimo elemento geometrico e vediamo adesso cosa sono i segmenti. Consideriamo una retta e sulla stessa due punti qualunque. Chiamiamoli A e B. Ora teniamo conto solo del tratto di retta compreso tra i due punti A e B ed eliminiamo tutto il resto. Bene, quello che abbiamo ottenuto è un pezzetto della retta che avevamo considerato prima, compreso tra i punti A e B, che rappresentano l'inizio e la fine del segmento. I punti A e B prendono il nome di estremi perché, come puoi osservare, si trovano alle due estremità del segmento ed anche i segmenti hanno una sola dimensione, che è la lunghezza. Tuttavia, questa volta, la lunghezza è un numero e possiamo misurarla. Ad esempio, possiamo dire che il segmento che abbiamo appena tracciato misura 10 cm. Il segmento degli estremi A e B che abbiamo appena disegnato si indica così, scrivendo A, B, mettendo una linea sopra. Facciamo un esempio. Consideriamo quest'altro segmento di estremi C e D. Possiamo indicarlo scrivendo C, D, mettendo una linea sopra. Il concetto ora è più chiaro. Per indicare un segmento si scrive il nome degli estremi e si mette una linea sopra. Niente di più facile. Tutto chiaro? Bene, passiamo all'ultimo elemento geometrico di questa lezione, il piano. Per visualizzare un piano possiamo considerare un foglio qualunque e poi immaginare che diventi sempre più grande fino a quando non riusciamo più a vedere i bordi. Dunque, possiamo immaginare un piano come un insieme di tutti i punti che formano un foglio enorme, così grandi che non possiamo vederne i confini. Le dimensioni di un piano sono ben due. La lunghezza e la larghezza. Entrambe infinite. E anche i piani vengono indicati con una lettera minuscola. Prima di chiudere, ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e di visitare il sito www.jaskool.it dove troverai altri tutor e altre lezioni di matematica e geometria. La lezione di oggi finisce qui. Dal tutor Valeria è tutto. Ciao! 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 Grazie a tutti